Continua la perizia sull'orditoio che si è portato via Luana Dorazio, la mamma di 22 anni, morta lo scorso 3 maggio nell'orditura Luana in via Garigliano a Oste, in cui lavorava come apprendista. Domani, per la terza volta, il consulente incaricato dalla procura di esaminare il macchinario, tornerà nella fabbrica per compiere ulteriori accertamenti utili a ricostruire la dinamica della tragedia. Con lui ci saranno i consulenti nominati dai tre indagati, la titolare Luana Coppini, il marito Daniele Faggi nella sua qualità di amministratore di fatto e il manutentore dell'orditoio Mario Cusimano. Le ipotesi di reato avanzate dalla procura sono le stesse per tutti, omicidio colposo e rimozione dolosa delle cautele antinfortunistiche. Gli investigatori intanto continuano le loro indagini, è al vaglio il telefonino di Luana che potrebbe contenere messaggi scritti e vocali, video e foto di interesse per l'inchiesta e sono in corso verifiche sull'abbigliamento, una speciale tuta antistrappo che l'operai avrebbe forse dovuto indossare per svolgere la sua mansione. Il secondo punto al momento è ritenuto dalla procura particolarmente rilevante perché si tratta di capire il motivo per il quale, se verrà accertata l'obbligatorietà, Luana Dorazio lavorasse indossando una normale maglietta esponendosi al rischio che l'orditoio la agganciasse e se l'azienda avesse provveduto a dotare i lavoratori dello specifico abbigliamento.